un tempo fa mi ha contattato Serena una ragazza, una di voi che mi ha detto Max, io faccio dei prodotti fantastici in Sicilia la mia azienda agricola si chiama Filomena e spedisco in tutta Italia staccato dall'albero e da uno a tre giorni arrivo a casa vostra lo vogliamo provare insieme che cosa c'abbiamo questa è una cassetta mista abbiamo le mandorle, quelle siciliane, quelle buone abbiamo i ceci, quelli siciliani, quelli buoni il melograno, e che vuoi dire a fare? è buono, il pompermo vedete, non so quelle bestie così grosse quelle che vengono da chi sa da dove poi, abbiamo le arance e i mandaranci allora, facciamo una cosa, usiamole così proviamo insieme, come sono quindi, questa è l'arancia Navelle quella che si usa per mangiare non da spremute, perché ancora non sono pronti i tarocchi, allora la peliamo a vivo ci facciamo una bella insalata di di filomena quasi capito? che ci mettiamo non solo agrumi ci mettiamo anche il melograno e le mandorle, no? così vediamo un po' una botta di vitamine che in questo periodo ci servono tante 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 vitamine allora, pelo a vivo anche il mandarancio mmm, è dolce ahhh, siete? c'è questo con zucchero? pensate che figate, sto toccando degli agrumi, delle arance che tre giorni fa, Massimo ancora era attaccata all'albero non è roba di frigorifero quella che normalmente, purtroppo, compriamo in città questa pariva a casa vostra direttamente, direttamente volete una cassa così? volete riempirvi di spremute di arance, di melograni? facilissimo, voi andate sul suo sito della sua azienda Serena ha creato un e-commerce, quindi che cos'è? lo sapete? facilissimo quello che vi piace, lo potete ordinare scegliete quei prodotti che vi piacciono non lo potete ordinare profumate, buonissimo facciamo adesso il pompelmo piatto vai buttiamo tutto così quasalmente le arance il mandarancio il pompelmo, così poi, melograno, direttamente dalla Sicilia guardate che rosso rosso sangue proprio, no? cose che vengono dall'estero battiamo un pochino questa è una bomba di di vitamine cioè, di tutto, cioè ammazzate che bello sto piatto eh? che abbiamo fatto? guardate ragazzi eh? vai, aspetta dai qui da qua il camera come non scappà devo scappà per piacere poi che altro abbiamo? abbiamo l'olio lo proviamo eccolo qua le mandorle le mandorle che fai? lui usa le mandorle siciliane? te stavo scherzando mmm mmm buono guardate che piattino eh? mandorle buttate così un po' di sale poco 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 un po' di pepe nero olio con lo siciliano quello buono adesso assaggiamo prendo un po' tutto eh che buon tavolo buonissimo mmm da paura ragazzi se volete fare l'ho fatto io ma deve arrivare questa bella scatola piena di profumi e sapori della Sicilia una placcia di Casamariola vi vorrei cose buone buonissimo e profumo e bontano avete bisogno di una ricarica di vitamine? ce lo vedo la soluzione ricetta mia e prodotti che prima stavano attaccati le giorni fa a un albero e adesso sono a casa vostra direttamente dalla Sicilia ecco qua la soluzione tutto a posto vabbè al voler mmm